Sì, è stata una settimana utile perché in mezzo al campionato, una settimana diciamo senza partite dove si può lavorare più sulla quantità di lavoro, è sempre utile, poi con la partita contro Milano va sempre bene, una amichevole fa sempre bene, quindi assolutamente contenti. Sì, sappiamo che adesso arriva un mese molto pesante, allora è stata utile avere una settimana che possiamo lavorare un po' di più di tecnica, di tecnico e adesso questo mese sarà molto tosta con sei partite, allora è stata una bella settimana. Cioè una partita alla volta come sempre, adesso pensiamo alla partita di domenica, poi come ha detto Peter, ce ne avremmo una dietro l'altra, quindi diciamo bisogna soltanto rimanere concentrati per un mese, nulla di più semplice e quindi solo questa settimana pensiamo soltanto a Ravenna.